Oh ragazzi, buon modo dei bentornati incredibili nel finalissimo super finale incredibile di Bendy e The Ink Machine Allora ragazzi, incredibili, io sono ancora speechless per quello che è successo nello scorso episodio ragazzi perché quello effettivamente deduco sia il finale finale però abbiamo visto che c'è un altro capitolo dopo il capitolo finale che si chiama Archivi l'unica idea, adesso a mente lucida, che mi viene in mente è che non so come il tizio di cui mi sfugge il nome, comunque il nostro amico tra virgolette quindi il capo di tutto questo luogo SUS dove venivano creati questi cartoni animati SUS ha creato una specie di loop eterno quello mi viene in mente ragazzi cioè la scena quando lui ci apre la porta e ricomincia il gioco vuol dire che quello è un loop temporale però io non so se l'ha creato lui è una conseguenza della macchina dell'inchiostro cioè secondo me sono collegate molte cose ragazzi è collegato il fatto che tutto quello che lui disegnava in qualche modo ha preso vita quindi quelle figure che noi incontriamo, tutti i personaggi che abbiamo incontrato sono dei disegni che poi sono stati fatti diventare vivi come abbiamo visto Boris, Alice eccetera 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 in tutto questo c'è l'incognita del bendy demone lui era il prototipo del bendy carino, puccioso ma di fatto poi è uscito fuori questo mostro inquietante che ha a che fare con l'inchiostro cioè io ho questo dubbio ragazzi non riesco a capire se in realtà è tutta una finzione e l'unica cosa vera è il loop temporale cioè che nel mondo vero lui è diventato famoso per questi corti animati per questi fumetti e però la sua creazione è stato il loop temporale dove all'interno del loop temporale c'è come una sottostoria quindi di noi che dobbiamo cercare lui che dobbiamo sopravvivere a questi disegni resi animati, viventi, incredibili al mostro dell'inchiostro, alla macchina dell'inchiostro capito? Io la vedo così per adesso che qui c'è il mondo reale dove lui è diventato famoso dove noi abbiamo collaborato eccetera 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 e quando lui dice all'inizio del gioco che siamo scomparsi in realtà non siamo scomparsi forse per nostra volontà ma è perché quell'uomo lì di cui mi sfugge il nome che comunque avete capito il nostro amico capo di questo posto è riuscito a creare un loop temporale e forse per liberarsi di noi ci ha fatto finire nel loop e noi viviamo un eterno loop questa secondo me è la mia teoria e nel loop ci sono tutte queste cose come la macchina dell'inchiostro, il mostro dell'inchiostro Alice, Boris e tutti i misteri incredibili Sammy, Lorenz eccetera 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 c'è pure un altro tizio di cui non mi ricordo il nome mi sa il tizio che poi è diventato una giostra che affrontiamo nel capitolo 4 che se non sbaglio anche lui tipo è spanito quindi io non vorrei che questo tizio Sus è riuscito a concepire un loop temporale però non so come, come vai a creare un loop temporale e là dentro lui ci butta tutte le persone che gli stanno antipatico oppure che si è stancato di lavorare con loro tipo noi, tipo quel tizio e altri tizi Sus oppure altra teoria lui la macchina dell'inchiostro l'ha creata nel mondo reale non so come, non so perché Sus e tramite questa macchina dell'inchiostro ha ottenuto questo loop temporale e il loop temporale realizza tutto quello che lui disegna e poi lui ci ha buttato qua dentro così che lui potesse avere successo e noi viviamo eternamente in un loop temporale ragazzi può essere pure quello ragazzi detto questo ragazzi andiamo a vedere questo stranissimo capitolo extra nooo è un museo con descrizioni uniche ma dai ma quanto amore queste sono le cose ragazzi che mi fanno impazzia a me ma guarda vabbè non ho parole complimenti benvenuti agli archi spero sia tradotto bene band e nick machine iniziato quando lo sviluppatore fumettista noto come ragazzi perdonate la mia pronuncia Sus temiteli credo non lo so ha fatto l'esperimento di portare un disegno 2D in un mondo 3D questa è la storia del gioco di come è nato il gioco non la storia del gioco in sé dentro ok ragazzi ci siamo capiti questa è la storia di come è nato band e nick machine non la storia dentro band e nick machine quindi è nato dal portare un disegno 2D in un mondo 3D e questa come idea ci sta dove è trasformato l'idea in un gioco horror il capitolo 1 del gioco è stato creato in meno di una settimana come hanno fatto scusami con il programmatore amico mike mood rilasciato 10 febbraio del 2017 come cazzano fatti in una settimana a fare un gioco del genere ragazzi è impressionante non ha senso per la loro grande sorpresa ha catturato l'attenzione di giocatori indie da tutto il mondo quasi che da un giorno all'altro Tim Italy e Mike Mood hanno deciso di abbandonare tutti gli altri progetti per dedicarsi a Bendy a raccontare una storia unica dell'inchiostro l'intero gioco è stato completato un capitolo alla volta in un anno e me ah ecco scusami il primo capitolo quindi dice infatti il primo capitolo è una settimana tutto il gioco in un anno e mezzo da un piccolo gruppo dedicato a sviluppatori indipendenti anche se il concetto e la storia sono rimasti originali come il previsto il gioco è cambiato durante lo sviluppo mentre i personaggi e i modelli sono stati perfezionati da loro versioni miste iniziali questo archivio è una panoramica di questo processo ragazzi complimenti per l'idea è tutto bellissimo e noi ci leggiamo tutto ragazzi tutto 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 allora iniziamo macchina dell'inchiostro originale vabbè mi sembra identica però a quella che c'è nel gioco macchina dell'inchiostro originale prima di un importante miglioramento visivo questa era la versione della macchina dell'inchiostro utilizzata nel gioco beh forse si è un pochino più piccola gran parte di questo design iconico a mad dai fan è stato convertito nella versione finale quella poi che c'è nel gioco è molto simile a questa però resa ancora più spicy semplice ma veramente carino capisco perché i fan si sono affinzionati ragazzi da dove vogliamo partire? vogliamo partire da Boris o da Bendy? vabbè iniziamo da Bendy dai wow ma quanto è creepy che si apre e c'ha la bocca così coi dentoni fatti così vabbè ma è fichissimo ma perché non l'hanno usato sto design? quell'immagine di Bendy non mi piace perché non rende Bendy è più un tizio che vuole fare il cosplay di Bendy ma senza riuscirci bene concetto di Bendy questa è la prima versione modellata di Bendy nelle prime arti concettuali il Bendy era molto più piccolo e carino con una faccia che si apriva per rivelare una bocca spaventosa è fichissimo io non so se questa cosa tornerà più avanti ma è fottutamente fichissimo perché non te lo aspetti è tutto carino e poi apre la bocca così in maniera assurda e creepy bellissimo design assurdo ammazza ma quanti Bendy hanno fatto? scusami quello è il Bendy poi finale no? il Bendy monstruoso quello è molto figo Bendy Alpha questo è il design originario utilizzato nel gioco di Bendy e di Inquashin dalle prime versioni del capitolo 1 viene affettuosamente soprannominato al team di sviluppo come cacca di uccello con un sorriso allora effettivamente è la descrizione più accurata che potessi dare effettivamente sembra un apopò di un piccione sì è vero complimenti per la descrizione questo riguardo è molto figo di Bendy super strong Bendy beta questa è una forma di Bendy fino all'uscita del quarto capitolo a quel tempo il gioco ha ricevuto un notevole miglioramento visivo hanno fatto una remaster quando sono arrivati al quarto prima del quinto figo e quindi il gioco ha ricevuto un notevole miglioramento visivo il personaggio principale ha ricevuto anche un nuovo modello ebbè hanno fatto le cornetta più sus il colore è un inchiostro più sus hanno messo il fiocchettino bianco guarda che bella quella fan art con le manine quella da l'altro è la mano che ci ha inseguito non mi ricordo in quale capitolo quando stavamo sulla barca questo è il Bendy che abbiamo visto in tutta la serie praticamente quindi se io avessi fatto questo gioco tanti anni fa avremmo avuto questo Bendy prima di questo Bendy qua Bendy e Ding Machine questo è il Bendy ufficiale come lo conosciamo oggi sebbene simile a Bendy beta questa versione aggiornata è stata rimodellata e migliorata con un numero maggiore di poligoni e nuovi effetti di pittura ebbè sì questo è proprio fantastico questo era un pochino più tozzo sotto questo è più snello però il Bendy più figo è questo qua questo è il Bendy boss finale Bendy bestia l'orribile forma finale d'inchiostro di Bendy nel capitolo 5 ha rimosso l'aspetto da cartone animato e arriverò il demon interiore ebbè certo la sua versione demoniaca molto figa questo è fantastico mi piace con le braccione muscolose mi piace mi piace quello è Sam Milor e se poi abbiamo a quelli sono della band ecco i del macellaio abbiamo Fishers perché ha una canata pesca Striker perché ha il pugnetto e Pipers poi abbiamo Cercatore Beta quindi questo è il prototipo degli slime all'inizio dello sviluppo con solo poche settimane perché era il secondo capitolo i Cercatori Beta sono stati realizzati in tempi record prima di essere completamente rilaborati in seguito erano i primi nemici combattenti trovati nel gioco esatto tra la versione Beta degli Slime Suss i Cercatori finali sembrano molto più robusti erano più armoniosi con effetti di pittura migliori Sammy Lawrence ecco questo si nota tanto la differenza ragazzi guardate cioè questo è prima della palestra questo è Sammy Lawrence dopo la palestra con la sua prima apparizione nel capitolo 2 il preferito dei fan Sammy Lawrence è diventato il personaggio terribilmente interessante perché la sua forma snella non era molto minacciosa è stato disegnato e ha ricevuto una migliore manipolazione scheletrica per un'animazione più avanzata e si ripeto tanta roba guarda che belle queste fanarte eh beh listo ragazzi best waifu quello è uno di quei slime sussa ecco poi lo leggiamo semifinale la forma finale di Sammy Lawrence si è stata completata con un aumento di altezze e arti più potenti lo stravagante compositore può finalmente essere notato almeno dai fan beh bella descrizione quindi non sono cercatori loro questi sono quelli che stavano in gabbia però secondo me sono sempre collegati ai cercatori che strano che non ha una descrizione Alice buona Alice cattiva neanche qui abbiamo una descrizione ma perché ci sono le descrizioni di Boris laggiù e di questi personaggi no? beh sus questa cosa amici questa Alice malvagia possiamo dire no? infatti che vedi ha la metà faccia corrotta però ragazzi tanta roba è best wife tra l'altro mi fa ridere che ha il capice da macellaio perché faceva gli esperimenti sus per rimanere sempre bella ragazzi però non ci hanno spiegato la differenza tra le due Alice perché lei parlava di essere rinata quindi forse questa Alice è stata toccata da Bendy è diventata corrotta ma allo stesso tempo poi è nata questa Alice che è quella buona tra l'altro lei è armata di spada poi abbiamo quella a fare lassù che non capisco che cos'è sembra una casetta distrutta dell'inchiostro quello è il nucleo dove poi andiamo nella macchina dell'inchiostro dove poi incontriamo boss finale quello è il trono di Bendy e quello è Boris versione Broly dopo gli esperimenti di Alice pure questo è il Boris che incontriamo nel finale quindi Boris buono tra virgolette e qui abbiamo dei cartelli sus poi leggiamo pure questi ragazzi questo che cos'è Boris Beta papà era il nome originale del personaggio che alla fine divenne Boris il lupo questa versione iniziale è stata rilasciata nel capitolo 1 è stata presto trasformata nel Boris che conosciamo oggi con l'avvio del capitolo 2 Boris il lupo un amico fino alla fine è stato realizzato utilizzando vari riferimenti del cartone animale degli anni 1920 ebbè ricorda molto Vippo ma come Bendy ricorda un po' Topolino quindi ci sta essendo una misciata di animazioni della costa occidentale e della costa orientale questo lupo silenzioso e utile ha conquistato il cuore di molti ebbè è vero anche se a volte è stato un mal di testa per il team di sviluppo a causa della sua IA che ha una vita propria durante la produzione ah carino perché si buggava evidentemente Boris Selvatico va bene una mostruosità di Alice Angel Boris Selvatico è stata una delle più grandi sorprese del quarto capitolo il suo design di Frankenstein beh si vede tantissimo ma con un aspetto non finito Alice prese parti da dentro e le sostituì con cose che il suo corpo stava rapidamente rifiutando quello che non andava più bene sul suo corpo quindi il fatto che ad esempio vedete che ha metà faccia mutata quello che gli stava succedendo a lei lo ha messo su questo Boris ed è diventato così vedete pure nel disegno è come se avesse tutte parti interne e strane rimangono la testa Suss che questo è il tizio delle gioste che pure lui non ha un cartello che è strano che però alcuni non hanno il cartello non capisco sta cosa è strana e poi abbiamo la gang dei macellai eccole qua che sono dei nemici Suss a quanto pare sono personaggi secondari gang dei macellai Piper, Stryker e Fischer formano la gang dei macellai curiosamente le versioni inchiostro corrotto dei personaggi sono state disegnate per prime e poi trasformate nelle loro versioni di disegno più familiare attraverso l'ingegneria retro beh sono carini però il design di loro questo è più figo quello con la canna da pesca però mi chiedo amici ora mi sta avvenendo un dubbio ma non è che se metto lingua in inglese magicamente vengono fuori i cartelli degli altri personaggi può essere che perché non sono stati tradotti forse mancano i cartelli può essere ah manca questo scusate non l'avevo visto Henry Stain essendo stato un partner commerciale egualitario con Joe Drew Henry Stain è stato un talentoso animatore siamo noi praticamente il designer fino a quando non ha lasciato la compagnia entorno a 1930 e a questo punto deduco che noi Joe Drew ci ha buttato nel loop secondo me altro che spariti il suo posto nella storia di Joe Drew studio si è in qualche modo non documentato ma molti dicono che lui è il vero creatore dietro alla maggior parte dei personaggi più memorabili dello studio vuoi vedere che noi abbiamo avuto le idee e lui se le è rubate e ci ha ciulato buttandoci in un loop eterno così che non potessimo mai fermarlo potrebbe essere perché è vuoto questo? standing proud ho preso un achievement il motivo per il quale mi ha dato un achievement ed il motivo per il quale qui non c'è niente è perché essendo la descrizione nostra noi ci mettiamo in posa per averlo fatto carino all'unico dubbio che io ho è se mancano dei cartelli perché è voluta come cosa però qui c'è lo spazio oppure perché non sono stati mai tradotti e quindi se metto in inglese magicamente i cartelli ci sono proviamo ragazzi metto lingua inglese e ci rivediamo qua eccoci qua ragazzi ho messo lingua inglese ma purtroppo non ci sono i cartelloni ragazzi peccato ci ho pensperato che magari era un bug della lingua invece no ragazzi peccato però fammi vedere in inglese come si chiamano beta boris boris the wolf brut boris vabbè boris brutto original ink machine concept bendy alpha bendy beta bendy ink bendy beast bendy beta searcher final searcher ok beta semi e final semi vabbè ragazzi però sono contento di averlo fatto ragazzi spero vi abbia fatto piacere questo video dove abbiamo letto e siamo diventati più amici di questi personaggi stravaganti sarà venuto un video probabilmente più breve del solito per carità ragazzi sono io che leggo delle descrizioni su questo ragazzi ma anche questo è vivere un videogioco soprattutto se dietro c'è un amore così grande ed è un gioco veramente carino ragazzi potrebbe essere il miglior mascot horror game che ho portato sul canale ragazzi non lo so se è proprio il migliore ma se la batte perché poppy playtime per carità è poppy playtime ma lui cioè questo gioco ha messo le basi su tutti i mascot horror che sono usciti dopo ok non sarà in stile FNAF perché FNAF è stato il primo 2011 questo è del 2017 però questo ha molto poco di FNAF capito? cioè FNAF è come se fosse un altro ramo del mascot horror gaming capito? cioè poppy playtime è molto simile a Bendy se vogliamo dove esplori tra l'altro forse per quando vedete questo video sarà uscito anche il primo episodio della sottorubrica horror che ho inventato di portare in caso se non è uscito piccolo spoiler perché allora uscirà prossimamente il primo episodio e vi spiegherò in quel video che cosa intendo ragazzi io da questo meraviglioso luogo Sus dedicato al Lord e Ben direi che può finire qua questo episodio incredibile noi ci vediamo nell'episodio extra che ripeto non so se sarà uno più lungo o due più corti di episodi extra vedremo un po' dipende da quanta roba c'è perché in Poppy Playtime io me li sono rigiocati tutti ve ne ho fatti pure più di uno perché era tanta roba e ci siamo anche rigiocati in gioco ragazzi che bravo siamo voi e ci vediamo al prossimo episodio di Bendy di Paschini incredibile uuuuh